Ciao a tutti, sapete quanto dica spesso che in fascia bassa ci siano delle tastiere molto molto valide, molto molto professionali, strumenti che utilizzo per primo io, quindi ne parlo con condizione di causa, anche perché appunto tutte le cose che recensisco qua sul canale sono cose che utilizzo o che ho utilizzato. Tanto che tempo fa un amico, possessore di Yamaha Mod X8, strumento che utilizzo anch'io, su un forum, su una pagina di tastieristi di Facebook, scrisse una cosa citando me e un altro tastierista dicendo vedete anche professionisti come Paolo Gambino e quest'altro musicista di cui non ricordo il nome utilizzano Mod X. Anche questo mio amico è un professionista, appunto possessore all'epoca di Mod X e uno di questo gruppo disse una cosa un po' spiacevole del tipo vabbè ma quella è mica gente che guadagna 5.000 euro al mese. Ora questa persona qua prima di tutto non è il mio commercialista, non è mia moglie, quindi le uniche persone che sanno quanto guadagni e a prescindere ho trovato molto di cattivo gusto, anche perché non credo che un musicista vada visto in base agli strumenti che utilizza. Avevo fatto anche un video a tale proposito, mi sono dato la spiegazione che questa persona qua probabilmente in quanto possessore di strumenti costosi volesse in qualche modo giustificarsi, è uno che tra l'altro di live mi sembra che ne faccia poco o niente, quindi come dire, credo un musicista che fa un'affermazione del genere su suoi colleghi direi che meriti tensione zero. Quindi la cosa vuole lì, ma mi ha dato un pretesto per parlare proprio di questo discorso qua, cioè come dire, un musicista vale in base a quello che utilizza e quando parliamo di strumenti economici lo dico, cioè io utilizzo strumenti di fascia economica perché sono leggeri, ne ho parlato anche in un altro video, perché sono comodi e poi perché basilarmente gli elementi importanti ci sono basilarmente tre, le nostre manine, il nostro gusto e la nostra conoscenza degli strumenti, questa fa la grossa differenza. Però oggi appunto parliamo di soldi, argomento che quando si parla di musica sembra che fa la musica, ma perché parla di soldi? Certo che si parla di soldi, noi musicisti paghiamo le bollette, facciamo la vita, come diciamo sempre, facciamo la vita che fanno tutti, quindi andiamo al supermercato, andiamo a portare i figli a scuola e paghiamo le bollette, il mutuo eccetera eccetera. Quindi prima di andare a parlare, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, mettere un mi piace alla fine del video se vi è piaciuto, fare commenti, proposte e quant'altro, vi ricordo il mio canale Patreon dove potete sostenere il mio lavoro, avere i video di YouTube in anteprima, avere molto più materiale, avere un contatto più diretto con me, lezioni online in diretta con me, collettive per il livello pro, insomma tanta roba, ma se siete interessati ad approfondire tutti gli argomenti che tratto sul canale, quindi tramite lezioni online o consulenza, scrivete ad info.paologambino.com. Allora, qualche giorno fa scherzavo con un altro mio amico proprio sul discorso dei soldi, lui mi chiedeva proprio un discorso di cachet personale per coinvolgermi in un suo progetto e si scherzava dicendo beh, certo che se uno andasse a guardare il livello dei musicisti, a volte magari Frank Zappa avrebbe dovuto essere straricco e i Rolling Stones dei morti di fame. Prima che i fans dei Rolling Stones mi aggrediscano, dico, si scherzava appunto e soprattutto in realtà poi Frank Zappa, come diceva anche questo mio amico, era uno che si sa, oltre all'abilità, era uno che conosceva molto bene il business e quindi non ne erano molto di fare. Ma anche i Rolling Stones che sembrano questi personaggi un po' così borderline in realtà sono tutt'altro che stupidi e il business lo conoscono molto molto bene e comunque hanno fatto un qualcosa di particolare, qualcosa di popolare, qualcosa che non c'era e come dico sempre i Rolling Stones non sono dei virtuosi, sono in modo molto personale, sono anche molto difficili da ricreare quindi giustamente ci sono loro e quindi è giusto riconoscere un valore. Però anche qua ogni tanto sentivo dei discorsi del tipo ah questa persona ha studiato qui, ha studiato là, borse di studio e quant'altro e non riesce a trovare lavoro, non c'è meritocrazia ma non è questo discorso, dipende sempre in che ambiti ci si pone poi, perché poi una scuola ci forma ma poi il lavoro, il mondo del lavoro è un altro. Questo vale per la musica come per tutto il resto e ci sono ambiti in cui chiaramente bisogna anche commisurarsi con quello che c'è nel senso che per esempio un altro amico mi chiedeva quanto chiedo e quanto chieda io per le sostituzioni ora dipende da dove le vado a fare, dipende da tanti fattori a volte magari sono più o meno allineato anche a quello che può chiedere lui che non è un professionista, però è un diciamo semiprofessionista di assolutamente di livello ha delle ottime capacità tecniche e chiaramente su alcune cose è chiaro che se andiamo su gruppi che hanno dei budget comunque risicati bisogna un pochino allinearsi e a volte magari anche la scelta poi magari per il non professionista che magari non deve pagare tasse e robe del genere, magari lo fa un po' più per passione è chiaro che io devo sempre mettere in conto il tempo che porto via la famiglia i chilometri, il tempo che porto via tutti i miei lavori quindi il discorso è relativo ma è chiaro che sulle situazioni piccole non è che puoi chiedere tanto mentre invece se uno cerca esattamente te ma perché sei un qualcuno purtroppo non esistono le tribute band di Eugenio Finardi se no mi proporrei io perché per esempio ci sono i musicisti di Vasco Rossi per esempio che partecipano alle tribute band e chiedono dei cachet giustamente alti perché certamente sono bravi ma tanti altri musicisti potrebbero fare quello che fanno loro ma queste persone qua sono esattamente quella persona lì quindi porteranno pubblico eccetera eccetera questo è un discorso che c'è poco da menarsela e poi c'è un altro discorso mi ricordo un altro video in cui davo consigli modestissimi a chi vuole entrare nel mondo della musica e sempre anche per parlare di quest'altra persona di cui sopra la carriera di un musicista cioè difficilmente un musicista guadagna una total mese io personalmente ho dei mesi in cui guadagno anche magari più dei 5.000 di che citavo questa persona e dei mesi in cui magari devo stare attento per arrivare alla fine mese e sono mia moglie fa un part time non sono ricco di famiglia ho due figli ho tutte le cose che hanno in tanti quindi devo essere un po' attento e che dire però non credo ecco che vada giudicato un musicista per i soldi che guadagna nel senso che certamente è chiaro che un musicista può chiedere se diciamo quello che propone in qualche modo è raro è chiaro che si va a confrontare anche ho citato l'esempio delle scuole di musica è chiaro che magari se devo insegnarti a suonare un brand devo partire dall'inizio c'è gente anche molto più brava di me magari se invece magari cerchi per qualcosa in particolare magari io faccio la differenza io come mille altri e quindi il valore si alza però il discorso è molto relativo appunto nella carriera anche di un musicista se io guardo i miei 25 anni e passa di attività nel settore musicale a parte che il lavoro è cambiato tanto e poi comunque ci sono i periodi che ti girano meglio le cose ci sono i periodi che ti girano meno bene quindi la cosa importante non è tanto guadagnare un sacco di soldi che fa sempre piacere ci mancherebbe ma credo che la cosa importante sia fare un qualcosa soprattutto quando si parla di musica con amore che ci faccia svegliare al mattino dire ah figo vado a far questo anche se facciamo i musicisti questo è successo a me ed è successo anche a tanti altri amici che magari capita al mattino diciamo porca miseria devo andare a suonare o porca miseria devo andare a scuola o porca miseria devo fare quell'altra roba che non c'ho voglia di fare succede un giorno siamo esseri umani succede continua c'è qualcosa che non va qualcuno mi ha anche dato del pazzo per aver lasciato delle situazioni viste da fuori anche importanti però io in quel momento lì ero infelice in quella situazione lì perché magari boh avevo esaurito il mio ruolo in quella cosa lì succede non è quindi la situazione diciamo non è tutt'oro quel che lucide ma soprattutto la musica appunto va fatta non credo che si possa pensare di andare di farla come andare a lavorare in fabbrica credo che bisogna sempre dare qualcosa qualcosa in più serve amore passione è quello che ci fa anche andare avanti prima dei soldi perché poi dico se dovessi questo mi confrontavo con altri miei amici dovessimo quantificare a volte tutti in ore così siamo assolutamente tutto in perdita però credo che si compensi poi con la soddisfazione poi anche la crescita insomma i fattori possono essere veramente tanti quindi il guadagno è un discorso molto relativo dipende però credo che sia degno di rispetto chi guadagna mille euro al mese come chi ne guadagna diecimila al mese chi se ne frega c'è la cosa importante è proprio come si affronta la musica questo sì un abbraccio a tutti e a presto ciao